Un corso d'inglese, un quadrifoglio, un viaggio all'estero per non tornare mai più, un libro per studiare la materia. Natale è alle porte e i regali che i nostri connazionali farebbero al nuovo governo rivelano, nel migliore dei casi, una creatività tutta italiana. Un bello orsacchiotto, così almeno si addorciscono tutti. Non c'è tutto. Una riproduzione del quarto stato. Un portafortuna, un bel corno. Perché? Perché così riesce a risolvere i problemi degli italiani. Un paio di scarpe della ginnastica per correre più lontano possibile da noi. Portafortuna, così ci portasse fortuna un po' tutti, poi noi italiani, ecco. Un bel pigiama caldo per dormire bene la notte. Ma certamente è un oggetto d'arte, credo. Tutto sommato se lo meritano perché hanno avuto il coraggio di rimanere al loro posto nonostante questo voto deleterio del referendum. A livello tecnico non sono messi là, secondo me, per caso. Quindi a ogni ministro, in base al vario ministero, regalerei un libro, comunque un'enciclopedia per capire di che cosa stanno affrontando. Devono studiare. Esatto, tanto. Un corso d'inglese, assolutamente. Una laurea in lingua. È un biglietto per espatriare senza ritorno, però. Via dall'Italia senza ritorno.